La Puglia è sempre più un punto di riferimento e un polo attrattivo per il turismo estivo, lo confermano i dati diffusi da aeroporti di Puglia in riferimento ai passeggeri in arrivo e partenza negli scali di Brindisi del mese di agosto. 1.093.640 le persone transitate nei due aeroporti, con un aumento del 22,5% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo parametro valido per un confronto a causa del biennio condizionato dal Covid. 569.819 sono stati i passeggeri di linea nazionale, dove si è registrata una crescita del 33,1%, 505.668 quelli di linea internazionale, con un aumento del 17,6% delle presenze. Tra i due scali, la crescita percentuale maggiore è quella fatta registrare da Brindisi, 379.456 passeggeri, il più 27,4% rispetto allo stesso mese del 2019, con un incremento che si è attestato al 3,2% per la linea nazionale e al 22,3% per la linea internazionale. A Bari, tra arrivi e partenze, sono state registrate 714.000 presenze, con un incremento del 20%, suddiviso tra il 33 per la linea nazionale e il più 16 per l'internazionale. Performance tra le migliori a livello europeo e superiori al dato nazionale dei passeggeri, la definiscono da aeroporti di Puglia, anticipando anche il prossimo abbio di collegamenti aerei da e per Foggia, con voli per Milano e successivamente per Torino, Verona e Catania. In crescita anche i collegamenti tra l'aeroporto di Bari e la città, a luglio e agosto sono stati 140.000 coloro che hanno usato il collegamento gestito da Ferron Trambiaria a fronte dei 93.000 utenti del 2019.